Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Come avete richiesto in tanti, cosa che non mi aspettavo Un video tutto dedicato sul fumo In cui ho la mia assistente personale che mi realizza le sigarette ogni giorno Un shout out per lei, un ringraziamento speciale per tutte le sigarette che mi ha fatto in questi due anni Non due anni perché a meno che fumo da quest'estate che ho iniziato a fumare Quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio Adesso siamo a marzo, ben otto mesi Otto mesi di sigarette scroccate Tranne i mesi in cui siamo state separate Quindi più o meno siamo lì Ecco, ho sbagliato Allora, se sentite i rumorini è lei che sta facendo le sigarette Io intanto vi faccio vedere i nostri accessori di sigarette Ovvero Questa è la borsetta un po' zuzza Dove teniamo il tabacco Ed è ovviamente di Spider-Man Ecco la mia sigaretta La ringrazio, è molto assistente Ma questa è, come dicevo, la borsetta in cui teniamo il tabacco Di Spider-Man in realtà è un marsupio per bambini che mi è stato regalato Per Natale dell'anno scorso, mi sa Per il tuo compleanno No, lo so in realtà, forse per il compleanno Non sono molto brava a tenere il tempo delle cose Dentro geniamo nella tasca grande il tabacco, i filtri e le cartine, mi sa E davanti tutti gli accendini Dico tutti gli accendini perché io ho una collezione di accendini Di clipper nello specifico Allora Allora Il tabacco che fumavamo di solito era il Whiston Blue Da quando hanno aumentato il prezzo abbiamo cambiato tabacco Perché non abbiamo intenzione di spendere quasi 7 euro, quasi 10 euro praticamente di tabacco E ci siamo date al L'Extride L'Extride Rosso Senza di dire Scusate Allora Ho tenuto una bussa di tabacco vecchia Perché vi voglio far vedere cosa abbiamo fatto Ops Sto facendo danni in questo video Sono emozionata che ho l'assistente qui accanto Allora C'era un'immagine brutta Di una Gamba Putata Allora abbiamo attaccato questa bambina che dorme E una ballerina Per nascondere L'immagine che c'era in precedenza Questo è praticamente finito Dato che è l'ultima volta che siamo andate a prendere il tabacco Non c'era questo normale Ma C'era solo Quello senza additivi Abbiamo provato anche questo E devo dire O dobbiamo dire Che lo preferiamo Quindi Pensiamo di prendere questo Che c'è un'immagine più carina Di un bambino Dice di tifumare Dice di tifumare Per quanto riguarda i filtri Prendiamo sempre Sia filtri che cartine Quelli Come si chiamano? Naturali Naturali Insomma quelli che Se li butti a terra non fa niente all'ambiente Biodiegradabili ecco Che io non ricordo mai come si dice Sono Vabbè Che sono Quelli corti Quelli sottili E Le cartine Corte Marroni Brown Bambino Adesso passiamo al pezzo forte Ovvero Alla mia collezione di accendini Quando Ho appena iniziato a fumare Mi sono messa a collezionare Un sacco di accendini Però erano brutti Allora ho iniziato a smerciarli un po' in giro Le date un po' mia mamma, mio padre Ad una mia amica Un po' all'assistente Perché non mi piacevano Adesso ho deciso di prendere solo Quelli che mi piacciono davvero E di non accumulare roba La mia amica Per Natale Mi ha regalato una collezione Adesso vi farò vedere Allora abbiamo Allora iniziamo con questo Che non fa parte della collezione Ma sono tutti su questo stile Che sarebbe la morte Con La falce La mia tetrice Credo si chiami Piccoli teschi E c'è scritto Runaway Che è Ok Nero Sono tutti Accendini Clipper Ultimo Che si è giunto Pochi giorni fa Dalla collezione Questo gattino Che è stile Allora in realtà È Credo sia Ecco La collezione Tra virgolette Si vede Dei clipper qui E c'è Il nome della collezione E quanti Ne fanno parte Tipo questo è 4 su 4 Quindi è il quarto Della collezione Ed è Japan Goats Quindi Gli dei giapponesi Questo è un gattino E mi piaceva Perché era un gatto Perché mi Ricorda i tatuaggi Old school E invece Un sacco Poi Abbiamo Uno Che è Dell'assistente In realtà Ma io che Le voglio fregare Perché è molto bello Che è Verde Fosforescente Con Un occhio Con dei tentacoli E adesso Vi faccio vedere Una collezione Completa Ovvero Questi Di Halloween Che sono 4 Che appunto Mi ha regalato Una mia amica Poi Nella tasca Sempre davanti Quella piccolina Teniamo Un burro cacao Che può sempre servire Però spesso Lo prendiamo Per sbaglio Per accendere Che fa molto Lidere ogni volta Una nuova aggiunta È un piccolo Possa cenere portatile Che fa molto che è viola scuro e ha un po' già sigaretta come una fogliolina questo l'abbiamo preso perché fumando in macchina una volta abbiamo fatto un danno e cioè abbiamo buttato, abbiamo cercato di buttare una sigaretta fuori dal finestrino ma invece di volare via è tornata dentro solo che questa sigaretta si è persa, non l'abbiamo più trovata fortunatamente le nostre sigarette si spengono non sono come quelle normali quindi non si è bruciato nulla perciò abbiamo pensato di prendere una posizione portabile da avere sempre dietro così da buttare le cicche in caso di adesso mi farò un'altra sigaretta soltanto perché ho parlato poco e fumato tanto e so che avete proprio richiesto un video in cui fumavo in più vi farò dei suoni mentre faccio la sigaretta anche se non sono tanto brava a rollare e tutto infatti teleco sempre l'assistente a fare questo lavoro e tutto so benissimo che fumare è una cosa sbagliata che non si dovrebbe fare so cosa comporta a livello di salute però ho deciso di fumare per una situazione molto personale che non voglio dire in più una cosa un po' ironica ovvero proviamo a fare tutti nella mia famiglia fumano e questa cosa mi fa molto ridere genitori, zii, nonni praticamente chiunque quando ero piccola lottavo contro i miei soprattutto contro il mio padre per farlo smettere di fumare e mi fa l'idea che io ci sono caduta e ovviamente lui non è che sia felice però non può neanche dirmi smetti perché lui non lo fa quindi è un po' un po' così è 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 un po' così allo stesso tempo so anche che la mia non è una dipendenza non è una dipendenza 100% o comunque no non è una così forte e sì mi piace però so anche che potrei smettere quando voglio che è una cosa che dicono un po' tutti penso però è un po' così però è vero è un po' così è un po' così spero che è un po' così spero che è un po' così spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia rilassato e intrattenuto sono contenta di farmi compagnia anche solo per 10 minuti vi auguro una buona notte un po' così un po' così e ci vediamo in un prossimo video e ci vediamo in un prossimo video buon'utte 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 buon'utte